qui avete ancora molte assenze senti della responsabilità maggiore sia a livello di campo perché oggi manca Vlaovic sia a livello di leadership accompagni la squadra ti prendi questa responsabilità penso che quando riguarda le responsabilità lo deve sentire ognuno di noi perché quando giochi nella Juventus metti questa maglia devi sempre sentire la responsabilità che hai sicuramente sono tanti giocatori che mancano ancora siamo contenti di questo che Angel e Federico sono recuperati stanno bene sicuramente ci danno una mano però come ho detto prima la responsabilità dovrebbe essere tutta della squadra non solo un giocatore con il Paris qualche giorno fa 13 recuperi alti il record stagionale ci aspettiamo una Juve di questo tipo aggressiva alta vediamo dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti